Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene amici, io sono qui a Costa Teghise, sono appena uscita dal lavoro, quindi ho deciso di farmi una bella passeggiata anche per farvi vedere oggi qui com'è la situazione a Costa Teghise, ma non vi voglio anticipare niente, vi lascio subito in compagnia delle immagini, ma come sempre vi aspetto alla fine del video, a dopo! Grazie a tutti! 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 eccomi tornata qui con voi. Allora innanzitutto come purtroppo avrete potuto vedere quest'oggi Costa Teghise è lasciatemelo dire praticamente deserta. Le persone che si vedono in giro per le strade nella stessa spiaggia e nei locali sono veramente veramente poche. Io che lavoro in un'attività commerciale che è un bar, voi lo sapete bene perché molti sono già passati a salutarmi. Purtroppo siamo un po' preoccupati per questo ma siamo fiduciosi perché la prossima settimana è la settimana di Natale e speriamo veramente che i nostri amatissimi turisti tornano a farci visita nella nostra fantastica isola. Vi ricordo che ancora per questa settimana almeno che non venga revisionata Lanzarote rimarrà in fase 1 nonostante i casi che continuano ahimè purtroppo a salire perché nella giornata di oggi sono stati registrati 51 nuovi positivi e abbiamo ormai superato i 300 casi attivi qui sull'isola. Fortunatamente la situazione nell'ospedale è tranquilla però i casi purtroppo continuano a salire. Bene amici non avendo quest'oggi nessuna buona notizia da darvi io vi saluto direi che per oggi è tutto ci vediamo domani per un nuovo video stessa ora stesso canale quindi tutti sintonizzati per un nuovo video domani su Curiosando Lanzarote. Un bacione a tutti buona serata. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.